E' costata 9 milioni di euro finanziati dalla regione la nuova bretella di collegamento fra la vecchia strada regionale 429 in località Zambra nel comune di Barberino Valdelza e la nuova variante già realizzata dalla provincia di Siena sul tratto Poggi-Bonzi-Certaldo in località Cusona, una frazione di San Gimignano. La bretella realizzata su uno spettacolare viadotto risolve le difficoltà di accesso alla zona industriale e ha consentito di eliminare un passaggio a livello ferroviario. Dopo il ponte di Stadano inaugurato in Lunigiana una settimana fa la Toscana dispone anche in Valdelza un nuovo ponte senza piloni in cemento. E' una grande soddisfazione vedere che le cose vanno avanti. La 429 in provincia di Siena con questa opera ha concluso il suo ammodernamento. Rimane invece la parte tra Empoli, Castelfiorentino e Certaldo dove comunque i lavori stanno andando avanti ad opera del commissario che si è insediato circa due anni e mezzo fa. I lavori per la nuova bretella su viadotto erano iniziate a fine 2014 e è un periodo che inauguriamo bei ponti, ha commentato il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Credo che aver superato l'idea che ponti si debbano fare con piloni in cemento sia un segno di ritorno alla civiltà.